ciao a tutti ragazzi da nicola castiglione puntata 1212 finalmente siamo tornati nella nostra location come si dice una promessa una promessa come dicono i miei ragazzini della della sn3 della scuola di pilotaggio e quindi eccomi qua ieri vi avevo detto anche tardissimo farò la puntata e difatti è tardissimo perché volevo rimettere tutto a posto e finalmente ce l'ho fatta abbiamo risistemato tutto come potete vedere è più o meno tutto allo stesso posto in realtà ci sono parti della stanza che voi non vedete e che ancora non sono ok però questa è la meno cosa e però riprendere la puntata da qui mi viene molto molto più comodo più facile farla c'è una qualità migliore quindi sono contentissimo di questo ora fatta questa premessa e in ogni caso mi faceva piacere esserci tra l'altro così domani qualcuno potrà fare colazione con il latte cappuccino quello che è caffè e racing time e anche perché vi avevo detto appunto che ci sarei stato poi avete visto la finale degli europei beh dai non è stata male concentrata ma divertente e me la sono concessa anch'io ecco uno dei motivi per il quale stiamo facendo tardi comunque adesso finalmente lo posso dire senza che ve la immaginate sigla e poi iniziamo questa breve puntata domani cercheremo di rifarne due al giorno tg giorno e tg notte sigla dunque allora devo dirvi la verità non ho avuto non ci abbiamo tanti contenuti oggi però un po' ci sono un po' sono colorati in rosso quindi fa sempre bene però non ho avuto tanto tempo avrei voluto farvi perché di solito lo faccio quando ci sono pochi contenuti poche notizie una parte tecnica ma non ce n'è stato veramente il tempo credetemi in ogni caso ritorniamo un po' alla puntata di ieri perché di sicuro prossima settimana avremo tutti le idee un po' più chiare quindi vedremo che cosa salterà fuori la prossima settimana per quel che riguarda il nuovo prossimo direttore tecnico della ferrari però ho avuto modo anche leggendo alcuni vostri commenti di rivedere un pochino 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 e ancora non sono convintissimo poi come al solito sarà la pista a parlare un pochino la posizione di un eventuale Elliot nel ruolo di direttore tecnico anche se c'è una piccola contraddizione in tutto ciò ovvero Hamilton Hamilton non è che lo sopportasse tanto Elliot quando appunto aveva quel ruolo in casa Mercedes anche perché a Hamilton Elliot non l'ha proprio ascoltato quindi già qui c'è qualcosa che non mi torna comunque la prossima settimana avremo info un pochino spero più chiare in merito a questo discorso parliamo del WEC perché purtroppo oggi la Ferrari non è andata benissimo alla 6 ore di San Paolo a vincere è stata la Toyota che ha preceduto due Porsche ufficiali poi ancora una Toyota e infine le due Ferrari della F Corse quella di Pierguidi Calado e Giovinazzi e quella di Fuoco vincitrice Aleman Molina e Nielsen perché siamo andati così male nonostante gli aggiornamenti che tra l'altro hanno funzionato hanno fatto quello che dovevano fare perché il BOP in casa Ferrari è stato veramente tanto tanto penalizzante speriamo che nella prossima gara o vicinissimo a una delle prossime gare si possa ricalibrare perché lo fanno ogni totte e questo BOP alla Ferrari veramente non va giù è troppo penalizzante però una vittoria in casa Ferrari comunque è arrivata nell'italiano GT al Mugello ha vinto Fisichella, Mosca e Arthur Leclerc con la scuderia Baldini certo che c'è veramente uno schieramento molto molto nutrito sembra il super turismo di una volta per coinvolgimento di marchi e numero di partecipanti veramente una gran bella categoria sono contento per il team Baldini e per Fisichella infine chiudiamo con una notizia che riguarda l'Oson forse un possibile pilota in casa Red Bull o RB se volete perché vedremo dove andrà per quel che riguarda l'anno 21 perché credo che ci sia una prova d'appello entro fine luglio visto che il test sulla Red Bull non è andato in maniera spettacolare allora ci dovrebbe essere una piccola prova d'appello su una RB Visa, Cash App eccetera eccetera l'RB 19 dell'anno scorso tra l'altro ha aggiornata male e dovrebbe essere a fine mese quindi vedremo che cosa combinerà l'Ian Lawson perché veramente si gioca un posto importante in Formula 1 bene voi non ci crederete ma la puntata finisce qui perché vi ripeto giornata pienissima e quindi poco tempo per impacchettare la puntata volevo fare una parte tecnica ma ci vuole un po' di tempo per farla quindi per oggi accontentatevi di questo con una promessa è una promessa vedete è una promessa da domani cercherò di tornare alle due puntate giornaliere magari diamo pure una svegliata perché abbiamo qualcosa già di pronto a Yellowskid e Selezione TV2 il nostro secondo canale bene io vi saluto vi ringrazio di avermi seguito sin qui vi prego di lasciare un like, un commento e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto sia questo che quello Selezione TV2 di cui vi ho appena parlato e attivare la campanellina in entrambi bacio e la buonanotte, ciao e anche lo stacchetto finale ci è mancato per un po' di tempo ciao ciao